Ciao a tutti ragazzi qui è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online Oggi dopo mesi ragazzi sono ritornato con una nuova gara troll Abbiamo le auto super, ho preso qui la mia visione Allora vai partiamo subito Era ragazzi veramente tantissimo che non giocavo queste gare troll Qui dobbiamo andare sotto, può essere Vabbè io ci provo, non c'è nulla Non c'è nulla però è sotto Ragazzi è sotto però non si va da questa parte Sicuramente no Comunque sia, non so se appunto siano più sclerose di un paio di mesi fa Però vedremo Allora come facciamo, come facciamo a scendere giù Non lo so, deve esserci una qualche via ragazzi Vediamo, perlustriamo tutta la zona Perché veramente ne ho viste di cose particolari Nelle varie gare che ho giocato Allora andiamo qui Oh cos'è cos'è, c'è un turbo Comunque non so, ci sono quelle che sembrano delle rampe Per farti saltare Qui sotto Non c'è nulla Niente ragazzi, allora mi sa che dobbiamo tornare indietro Credo di sì Credo di sì Vediamo di tornare indietro Via 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 Ok allora torniamo indietro perché sicuramente qui avremo qualcosa No però quello sta ritornando Quindi mi sa che non c'è nulla ragazzi Non c'è Credo nulla Sembra di no ragazzi Cioè ma come si fa Come si fa Come si fa Dobbiamo già impazzire Allora volendo però potrei buttarmi sotto Vediamo se io mi butto così Potrei Ok ragazzi mi sa che si può fare Mi sa che si può fare Ricompariamo Ricompariamo perché Secondo me ragazzi C'è qualche buona possibilità Allora andiamo indietro Non so se sia questa la via Proprio esatta della gara Però Dobbiamo tentare Dobbiamo tentare queste cose strane per Cercare di Arrivare ragazzi al checkpoint Ok posso partire Posso partire Allora mi butto questa volta Da questa parte Vai Vai che ce l'ho Prendilo 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 senza fare scherzi Uh Mi sono avvicinato ragazzi Tantissimo Sono esploso Ragazzi mi sono avvicinato Veramente tantissimo Però niente da fare Mamma mia Com'è possibile Vedete gli altri non O forse Ah Forse si deve saltare lì E quella rampa Poi ti fa tipo scendere Verso Verso l'interno Può essere Vai Vediamo un po' Se è così Sì Sì Quelli ce l'hanno fatta Io no Io no Però gli altri sì Vabbè Allora ragazzi Si fa esattamente in questo modo Ti devi mettere in quella rampa Per poi andare giù In maniera perfetta E insomma Arrivare al centro Aspetta Ecco Vai indietro Ah Ce l'avevo Ce l'avevo però Sono andato fuori Va bene Comunque ormai abbiamo capito Come si arriva lì Anche se io prima ce la stavo facendo Devo dire Con metodi Assolutamente alternativi Vai Ok Aspetta Vai tutto indietro Vai che ora ce l'ho Ora ce l'ho per forza Eccolo qui ragazzi Vai che ce l'abbiamo il checkpoint Dov'è? È da questa parte Vai Checkpoint Preso Perfetto Ora dobbiamo Arrivare all'altro Come ci arrivo però? Ma quelli che stanno facendo lì sopra? Non lo so Ragazzi Non vorrei Si debba Passare Da questo labirinto Per scendere giù Verso il checkpoint Cioè Potrebbe essere Si C'è un buco C'è un buco Va bene Spero ragazzi Che la mia auto Riesca a passare Lì dentro Perché è un po' improbabile Ci proviamo Allora Devo andare a sinistra Si Perché a destra Non c'è nulla Però vedete Questo spoiler enorme È veramente difficile No qui non c'è nulla Va bene Dobbiamo salire da questa parte Allora Velocità Vai Ok Dai che ce l'ho Perfetto ragazzi Giriamo da questa parte Va bene Va bene Non spingermi Non spingermi Stiamo calmi Ok ragazzi Qui c'è il buco Io mi butto dentro Vai Va bene Va bene Allora vediamo Dato che ora ci sono Vediamo di cadere In tranquillità Spero sia esattamente Qui sotto Il checkpoint Perché Vai Accelera Entra Ok ragazzi L'auto è entrata Cadiamo bene Senza saltare in aria Perfetto Checkpoint preso Questo sembra Un mini campetto da calcio L'altro checkpoint Dov'è? È sotto Ovviamente hanno provato A sfondare le porte Ma non Non hanno concluso nulla Allora Giriamo qui attorno Magari c'è qualcosa Qui sotto No ragazzi Niente Niente Allora dovrebbe esserci Sicuramente qualche buco Da qualche parte ci sarà un buco In cui entrare Sicuro E purtroppo È difficilissimo Fare la gara Con queste auto Veramente È super difficile Allora passiamo qui C'è qualcosa Uh C'è un buco ragazzi Nessuno l'ha visto Com'è possibile? È troppo strano Nessuno l'ha visto Ragazzi Ok mamma mia Per poco Non sono saltato in aria Prendiamo il checkpoint Comunque l'hanno visto ragazzi In tanti Non è che non l'ha visto nessuno Però eravamo in tanti lì bloccati Manca solo il traguardo E come si arriva al traguardo? Potrei ragazzi Buttarmi qui Piano È una conclusa in prima Forse questa potrebbe essere la via Cadi 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 bene Senza esplodere Senza esplodere Ce l'ho ragazzi Mamma mia Mamma mia Ce l'ho fatta Andiamo a concludere In seconda posizione Quello ce l'ha fatta prima di me Ragazzi E niente Veramente per poco Veramente per poco Per poco Perché mentre lui si stava buttando Io avevo pensato di guardare lì Comunque ho concluso In seconda posizione Gara molto bella Non è stata proprio super sclerosa Cioè come troll Ragazzi alla fine è stata abbastanza normale Tranquillo Adesso però ne andremo a fare un'altra Eccoci qui Allora adesso ho preso la Progen T20 Ragazzi Perché era l'auto consigliata Insomma per questa gara troll Perché è un'altra gara troll Vedremo se sarà Peggio O meglio Rispetto a quella di prima Però qui prendiamo i primissimi Checkpoint Andiamo a vedere Perché l'altro dovrebbe essere lo stesso qui Non vedo freccette nel checkpoint Quindi Vediamolo Eccolo ragazzi Almeno i primi sono normali Prendiamo anche questo Forse ne abbiamo un altro Vai 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 Sì Niente abbiamo tutti i checkpoint qui Vai 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 Quest'altro ce l'ho Qui prendiamo l'altro Dovrebbe essere una sorta di scatola troll Ragazzi Un troll box Cioè Questo è il titolo della gara Va bene abbiamo l'ultimo checkpoint È il traguardo Cioè che significa A questo punto il traguardo Sarà impossibile da prendere Ragazzi Almeno credo Dov'è? Dov'è il traguardo? È sotto? Ragazzi mi sa Sì è sotto Va bene va bene Allora non lo so Io vado su Ragazzi ci provo Vediamo un po' Magari Ho preso la via giusta O magari no Frena Ok ce l'ho Ce l'ho Allora fatemi vedere Fatemi vedere Dove sei il traguardo? Traguardo dove ti trovi? Ragazzi il traguardo Non cadere Ah praticamente è dentro Questo coso Quindi Devo saltare Va bene forse Forse posso arrivare lì sopra A saltare No Toglietevi Vedete già uno ha fatto il salto Ragazzi Il salto che volevo fare io Allora vediamo un po' Via dalle palle Via dalle palle Vai Vola Vola Vai che ci arrivo Ce l'ho ragazzi Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Adesso devo però Saltare dentro Devo saltare dentro Andiamo indietro E prova a saltare Vai Salta Vai Progen Ragazzi dovrebbe essere qui Dovrebbe essere qui il traguardo Invece no Cioè è qui È qui però È buggato Non ci credo Cioè era la via Era la via più logica Effettivamente ragazzi E quindi quella Quella meno probabile Va bene Niente Ricompariamo Mi hanno trollato Era prevedibilissimo Cioè in realtà no In realtà non avrei mai pensato Che ci fosse ragazzi Il troll lì Comunque a questo punto Allora c'è una entrata Forse da sotto Perché Se da sopra non si può Deve esserci ragazzi Una qualche entrata Qui sotto Una qualche entrata segreta Qui c'è Non lo so Una tettoia Di una casa Eh ma non c'è Non ci sono entrate Quindi come si fa A monocchia non ha Un'entrata tipo a metà A metà La torre magari potrebbe Essere aperta È un'idea Allora facciamo una cosa Ragazzi io riprendo Il tubo di prima Che Neanche mi ricordo Più qual era Sinceramente Forse questo Può essere Sì ragazzi Era questo qui Allora io prendo Questo tubo Così saliamo in alto E vediamo un po' Se riesco Se riesco a capire Dall'alto Magari qualcosa Non esplodere Per favore Ok Ce l'ho Allora vediamo ragazzi Andando Da quest'altra parte Se trovo Magari qualcosa Di diverso Perché Potrebbe esserci Una entrata Tipo a metà Cioè A questo punto È la cosa Più normale Oppure non lo so Veramente Allora qui andiamo Salta Va bene Però Non lo so ragazzi Non lo so Non si capisce nulla Non si capisce nulla Perché ci sono diverse vie Che portano sempre Sempre sopra Ma sopra Poi è sbarrato A meno che In un lato Sopra Non ci sia Una zona aperta Io ragazzi Ho preso la prima Rampa subito Che capitava E quindi Magari girando attorno Forse c'è qualcosa Di aperto Vabbè io ci riprovo Riprovo ragazzi A saltare su Non so Non so veramente Cosa fare Perché Da tutti i lati È chiusa Quindi forse Si è entrata sopra Ma da qualche spazietto Che magari era Nel lato opposto E non ho visto Può essere Allora vai qui Vai Velocità Vola Vai che ci arrivo Ok perfetto Allora vedete Io ora Voglio girare Qui intorno E vedere se c'è Un minimo spazio Aperto No Non c'è nulla Va bene È tutto chiuso Incredibile Incredibile Quindi intanto C'è un'altra Piattaforma Che però Non credo Sia utile Ragazzi Non lo so Questo qui È veramente Un mistero Niente Non trovo Altre vie Sono andato Veramente ovunque Io ragazzi Provo Non lo so A rientrare Niente Ma non va Non va Ci sono questi due container Qui Praticamente Non ti fanno andare giù Però se non è questa La via qual è Cioè È impossibile A meno che non ci sia qualcosa Qui negli angoli Di baggato Che ti fa cadere giù Boh Non lo so Ragazzi È veramente stranissimo Cioè È veramente stranissimo Nessuno Tra l'altro Ce l'ha fatto Vabbè Ricompariamo Per questo punto Penso ragazzi Che si debba prendere Da sotto Da sotto Il traguardo Perché non c'è altro Veramente da fare Ho trovato ragazzi Uno spazio strano Vediamo Salta Qui mi porta Da qualche altra parte Qui c'è qualcosa No ragazzi Tutto chiuso Tutto chiuso Tutto chiuso Eppure lì nel salto Sotto Era chiuso Quindi Niente Quest'altra zona È inutile Non c'è nulla No ragazzi Tutto chiuso Vabbè Non lo so A questo punto Veramente Siamo qui da 8 minuti Però nessuno Trova Trova la via Per il traguardo Questa è una cosa Assurda Non si trova Ragazzi La via Per il traguardo Cioè Veramente Non ne ho idea È qui dentro Però Non si può andare sotto Allora Sto provando A saltare Da questa parte Perché qui c'è un tubo Che Boh Non lo so A questo punto È l'unica via Ragazzi Che ancora Non ho provato E questo tubo Forse Dico forse Potrebbe portarmi Da qualche parte Non lo so Anche perché si collega Ad una zona Che non è raggiungibile Da sotto Qui vedete Ci sono questi tubi Che sono intrecciati Tra di loro E non può entrarci Da sotto Quindi magari Mi porta Da qualche parte Non lo so Eh però qui Si deve stare Si deve stare attenti A non saltare in aria Ok Direzione sbagliata Vabbè Sì Come se Come se ci fosse Una direzione giusta Allora Andiamo qui E non lo so Ragazzi Vabbè Siamo adesso Completamente fuori C'è uno che mi sta seguendo Purtroppo Vai 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 Che forse ragazzi È la via giusta È l'unica È l'unica Sinceramente Perché Oltre Oltre questa Non c'è altro Io ora vado piano Vai Ok Abbiamo il tubo Che ci porta Però vedete Sempre sotto Niente Siamo fregati Siamo fregati Perché il tubo Porta sempre giù Giusto Sì ragazzi Il tubo Non porta giù Esatto Porta sempre Allo stesso punto Anzi niente Siamo andati Completamente fuori Vabbè Credo che non ci sia Ragazzi Credo che non ci sia Una soluzione A questa gara Veramente Penso di no Perché C'è C'è solo una entrata Siamo qui Non la troviamo È assurdo Forse lì sopra Ho trovato un punto Dove si può andare Completamente sopra La mappa Vediamo se funziona Allora io intanto Mi lancio qui Girati Ok ragazzi Ok ragazzi Ce l'ho Allora niente Provo Quest'altra cosa Perché veramente Sto provando Delle cose assurde Che non penseresti Mai di fare Però li devo fare Perché Non c'è Non c'è soluzione Vai Vediamo un po' E vedete C'è uno spazio Perché nessuno Perché nessuno ha trovato La via Io per prima Avevo trovato quella Ma è sbarrata Ora non so se Se sia un bug Che magari È stato corretto E non si passa più Da lì con l'auto Oppure Non lo so Oppure non lo so Perché abbiamo girato Qualsiasi cosa Qui dietro c'è C'è un'altra zona Però Qui dietro c'è un'altra zona Forse ho trovato un punto Ragazzi Ho trovato qualcosa Ragazzi Allora qui Si riesce Ad uscire fuori Io sto tentando Le cose più assurde Qui praticamente Sono fuori Dalla Dalla mappa E come vedete Mi fa cadere Esattamente giù In questo punto Vediamo se mi porta Da qualche parte Forse sì Per favore Dimmi di sì Ce l'ho O no Ce l'ho o no Non lo so ragazzi Vediamo se riesco A continuare Fino a sotto Il traguardo Potrebbe essere La via buona Non lo so È impossibile È impossibile Ragazzi Vedete Ci sono dei tubi E forse Vabbè Io a questo punto Mi butto Mi butto giù Perché potrei ragazzi Magari da sotto Arrivare a concludere Non ne ho idea Magari c'è qualcosa Qui sotto Che Eh vedete Vedete Arriva fin qui Quindi facendo il giro Forse ce la potrei fare Ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Dammi qualcosa Una rampa Un qualcosa per salire Vediamo che cosa c'è qui Ragazzi Il traguardo Prima posizione L'unico ragazzi Ad aver visto qui Il tutto Mamma mia Mamma mia Ce l'ho fatta Dopo 20 minuti Andiamo a concludere E probabilmente Gli altri impazziranno Perché diranno Come ha fatto A concludere in prima Non ve lo dirò mai Anzi vabbè Guarderete il video Però io concludo E intanto impazzite Mamma mia Ragazzi Impressionante Impressionante No sono arrivato Praticamente A girare Tutta l'intera mappa Cercando un punto Per uscire fuori Da questa scatola Perché si chiama Box Troll race Una cosa insomma Del genere E quindi L'unica cosa da fare A questo punto Era uscire Dalla mappa E vedere cosa Cosa c'era dopo Se si poteva arrivare Al traguardo Da qualche altra parte Ma all'esterno Non all'interno Perché all'interno Era tutto sbarrato Alla fine ragazzi Ho trovato quel punto Nel tubo Aperto E alla fine ce l'ho fatta Alla fine ragazzi Ce l'ho fatta E gli altri Secondo me Non ce la faranno mai Cioè O forse ce la faranno Tra un sacco di tempo Non lo so Però comunque sia Io vi saluto Perché ovviamente Non so quando concluderanno Ragazzi Io spero che vi sia piaciuto Abbiamo giocato Delle gare troll Questa qui è stata Veramente Ma veramente Complicata Però bella Soprattutto quando poi Insomma Tu per primo Riesci a concludere A farcela Io spero che vi sia piaciuto Quei Dexta Lasciate un mi piace E ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao